Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vi porteremo in un viaggio culinario attraverso la Puglia, una delle regioni italiane più rinomate per la sua cucina ricca di sapori, tradizioni e ingredienti genuini. Preparatevi a scoprire i piatti tipici che rendono questa terra così speciale. Pronti? Iniziamo subito. 1. Orecchiette con cime di rapa. Iniziamo con il piatto simbolo della Puglia, le orecchiette con cime di rapa. Queste piccole paste a forma di orecchio sono fatte a mano e spesso condite con cime di rapa, aglio, acciughe e peperoncino. Un piatto semplice ma pieno di gusto che racconta la tradizione contadina della regione. 2. Focaccia barese. La focaccia barese è un'altra delizia imperdibile. Preparata con un impasto soffice arricchito con pomodorini, olive nere, olio extravergine di oliva e origano, è perfetta per uno spuntino veloce o un aperitivo. Croccante fuori e morbida dentro, questa focaccia conquista tutti al primo morso. 3. Pane di Altamura. Il pane di Altamura è famoso in tutta Italia e oltre per la sua crosta croccante e la mollica soffice. Questo pane è realizzato con semola di grano duro ed è cotto in forni a legna, seguendo una tradizione secolare. È ideale per accompagnare salumi, formaggi e zuppe. 4. Taralli. I taralli sono uno snack tipico pugliese, perfetti da sgranocchiare in qualsiasi momento della giornata. Questi anelli di pasta croccante, aromatizzati con semi di finocchio, peperoncino o cipolla, sono ottimi da soli o accompagnati da un bicchiere di vino. 5. Burrata. La burrata è uno dei formaggi più amati della Puglia. Questa deliziosa mozzarella ripiena di panna e stracciatella è un vero capolavoro di cremosità. Perfetta da gustare fresca, magari con un filo d'olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. 6. Pasticciotto. Passiamo ai dolci con il pasticciotto, una piccola delizia ripiena di crema pasticcera. Questo dolce, originario del Salento, è perfetto per la colazione o una merenda golosa. La sua crosta friabile e il ripieno cremoso vi conquisteranno al primo assaggio. 7. Frisella. Le friselle sono ciambelle di pane biscottato, spesso immerse in acqua per ammorbidirle e poi condite con pomodori, olio, sale e origano. Un piatto semplice ma incredibilmente gustoso, perfetto per le calde giornate estive. 8. Polpo alla pignata. Il polpo alla pignata è un piatto tradizionale cucinato in una pentola di terracotta, la pignata a punto. Il polpo viene cotto lentamente con pomodori, cipolle, patate e erbe aromatiche, risultando tenero e saporito. Un'esperienza culinaria unica. 9. Cavatelli ai frutti di mare. Un altro piatto iconico sono i cavatelli ai frutti di mare. Questa pasta fresca, dalla forma allungata, viene condita con un sugo ricco di cozze, vongole, gamberi e calamari, esaltando i sapori del mare adriatico. 10. Zeppole di San Giuseppe. Concludiamo con le zeppole di San Giuseppe, dolci tipici della festa del papà. Queste frittelle di pasta choux, ripiene di crema pasticcera e decorate con una ciliegina, sono una vera leccornia, amate da grandi e piccini. E con questo dolce finale, il nostro viaggio nella cucina pugliese si conclude. Speriamo che questo tour gastronomico vi abbia fatto venire l'acquolina in bocca e vi ispiri a provare queste delizie. Non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi video. Alla prossima, ciao!